Ieri mattina nell'area Renaccia ad Atena Lucana la presenza di sua eccellenza Monsignor De Luca, del sindaco Pasquale Iuzzolino, del vice sindaco Sergio Annunziata e del consigliere delegato Franco Bellomo si è inaugurato il sentiero le grotte dei Saraceni, il percorso naturalistico che permetterà ad amanti del trekking e a famiglie di godere delle bellezze naturali presenti nel territorio atenese. L'opera che si inserisce nel generale progetto di sviluppo e valorizzazione delle risorse turistiche ambientali di Atena Lucana ha permesso il recupero e la restituzione ai cittadini di un'area abbandonata spesso usata come discarica abusiva. Ora è possibile visitare le grotte presenti lungo il percorso ed osservare il volo del falco lanario. Gli appassionati dell'escursione potranno godere anche di due attrezzate aree picnic presenti all'inizio e alla fine del sentiero a lato del santuario della Columba alle spalle del centro storico e in località Arenaccia ad Atenascalo dove i più piccoli avventurieri potranno anche divertirsi nell'area giochi a loro dedicata. Il sentiero lungo circa 3 km è stato realizzato con i fondi del Perse Campania di cui Atena è stata l'unica a beneficiarne così ha dichiarato i nostri microfoni l'attuale vice sindaco e assessore all'ambiente Sergio Annunziata che al momento dell'inizio dei lavori guidava da sindaco l'amministrazione che ha dato il via alla realizzazione del progetto.